Continuano le segnalazioni di tentate truffe agli anziani, ma in questo caso sono stati denunciati responsabili. Si tratta di due campani di 47 e 56 anni scoperti dai carabinieri di Monteporzio nell'adoperarsi in una truffa con la tecnica del cosiddetto falso incidente. Nel merino dei truffatori era finita una novantenne che ad ottobre aveva ricevuto una chiamata da parte di un sedicente maresciallo dei carabinieri che l'avvisava di un grave sinistro stradale causato dal figlio. Il sedicente maresciallo la informava della necessità di consegnare una somma di denaro ad un avvocato al fine di evitare la denuncia. A distanza di pochi minuti dalla telefonata si presentava a casa della vittima il fantomatico avvocato, ma la donna insospettita non gli consentiva di entrare in casa. Subito dopo il malfattore si è visto scoperto e si è allontanato a piedi raggiungendo una macchina di colore verde. Gli accertamenti attraverso analisi di immagine da impianti di videosorveglianza privati hanno permesso di identificare con certezza il sedicente avvocato nell'uomo campano di 47 anni e di cristallizzare responsabilità a carico dell'altro uomo alla guida dell'autovettura risultata noleggiata. Ad aiutare l'anziana a non cadere nel tranello anche l'importante opera di informazione svolta assiduamente dai comandanti dei carabinieri della compagnia di Fano tra cui proprio quella di Monteporzio. Carabinieri che negli stessi giorni hanno infatti registrato altre dieci chiamate ad anziani per altrettanti tentativi di truffa non andati a buon fine. Grazie. 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 Grazie.